Buonasera Presidente Conte, cosa sta facendo? Sto facendo un buon caffè. Ce lo fai invece un bel bilancio dei primi cento giorni? Certamente, noi abbiamo chiuso un accordo storico con l'Europa sui migranti. No, 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 non c'è nessun accordo. Sì, 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 no, perché stavamo togliendo le accise sulla benzina. Ci sono ancora le accise? Sì, certo, 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 perché eravamo impegnati con la flat tax. Ma non c'è la flat tax. Ma prima perché? Perché abbiamo fatto il reddito di cittadinanza. Ma non c'è nemmeno quello. Ed ecco che non c'è nemmeno quello. Ecco, però c'è la fornero o c'è? Sì, ma dovevate toglierla. Dovevamo toglierla. Eh certo. Il Presidente Rai. Congelato. Chiusura dell'Ilva a Taranto. No, l'avete riaperta. Però abbiamo chiuso la TAV. No, sono ripartite le gare da parte. Abbiamo ristabilito la legalità in questo paese. Ma se c'è Salvini indagato per sequestro di persona. Oddio, il Premier Salvini è indagato. Ma com'è il Premier Salvini? E chi se no? Mi scusi, mi scusi, mi scusi un attimo. Sì, no, prego, prego. Dimmi Luigi. Ah, di me. Ah, in tazza grande lo volevi? Ma no, ma no. Ma te lo rifaccio subito, sono qui per questo. Ma come lo rifaccio? L'acqua però frizzante rimane. Ma che addirittura? Rimane. Che palle, che oh, che palle. Grazie. Grazie.